Vai! Sì, abbiamo appena concluso la prima riunione informale di giunta, diciamo, con gli altri colleghi e abbiamo fatto un primo scambio di vedute. Devo dire che sono soddisfatto del ruolo che ho assunto, sia per i referati, sia per la carica di vice sindaco, in modo tale da poter supportare il sindaco Casarotto in tutte le sue attività e dare il mio contributo di esperienza alla giunta. Sono molto soddisfatto della composizione della giunta stessa, perché credo che sia da un punto di vista di equilibrio delle varie liste c'è una buona rappresentanza e le persone che compongono la squadra sono persone con le giuste competenze nei giusti assessorati. Sono molto fiducioso che riusciremo a dare le risposte che i cittadini si attendono.